Buonanotte amici della notte, viva la patacca e un vada bot! Sto a scherzare, ciao, ebbè dobbiamo parlare di calcio, bella a tutti da me. Stasera andava in scena Milan-Torino, dice ma che fine hai fatto oggi ne hai fatto manco un post partita? Nel benevento, ne me ne sono viste le partite, ciao voglia. Detto questo andiamo a parlare qui del Milan e magari un minutino parliamo anche delle altre partite. Vi invito però, mi raccomando, a supportarmi con tantissimi mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fa la stessa cosa sul secondo canale YouTube dove oggi è uscito un super video, mi ricordo che ho pubblicato, dei quelli esagerated, sicuramente sarà stato un bel video. Detto questo ragazzi miei, dice, manca Ciananoglu, manca Ibrahimovic, Milan decimato, le nonne, le zie, questi non guardano in faccia a nessuno, non guardano più manco chi c'hanno in campo. Mi sembra un po' l'Atalanta della situazione, Casperini chi mette e mette, comunque ne fa 4, 5 a chiunque, e Milan magari non ne fa 5, ma vince lo stesso, la sostanza è quella e anzi, permettetemi, questa è una vittoria che al Milan gli dà tranquillità. E perché gli dà tranquillità? Ovviamente perché allunga intanto sulla seconda e sulla terza che domani, ironia della sorte, se scontrano e se dovranno prendere a sportellate per cercare di portarsi a casa i tre punti. Non so se sono stato chiaro. Ovviamente quando parlavo di assenti Ciananoglu e Ibrahimovic, mi riferivo al fatto che non sono partiti da titolari, non sono stati schierati i titolari e, stavo per dire una cosa importante che mi sono scordato, sono stati recuperati in extremis in realtà, perché pure io ho fatto il fantagabbo, il segno o non segno, le nonne, le zie con mi fratello, se lo sapevo avrei messo Ibrahimovic al segno o non segno, l'avrei messo probabilmente anche al fantagabbo e probabilmente anche nelle altre serie crossover. A parte questo andiamo a riassumere quello che è successo all'interno della partita. Qualche polemica sinceramente l'ho sentita e voglio esprimere in merito il mio parere. Primi 20 minuti ragazzi il canovaccio tattico era bello che è comprensibile. Milan in pressione, Torino ordinato dietro, cercavano il bandolo della matassa, più che altro il Milan rispetto al Torino, ma Torino attendista che cercava il momento opportuno per eventualmente impertuggiarsi, ripartire e purgare il Milan. Ragazzi miei, questo è un Milan anche dei giovani, diciamoci la verità. Obrahim Diaz che serve Leao, sono anche scelte, uno dice, i risultati grazie a quelli che scendono in campo e all'allenatore. No ragazzi miei, le scelte sono anche fatte dalla dirigenza, perché se quei giocatori scendono in campo scelti dall'allenatore è perché qualcuno gliele ha messi a disposizione. Quindi è una macchina che sta girando bene perfettamente attualmente. Non so se mi sono spiegato, non è solo una delle parti che funziona bene, sta funzionando sicuramente tutto. Dove? Questa risale qualcosa? Piavo troppo caffè. Che freschezza, 0 gradi di centimetro, ma forse pure di meno. Stavo dicendo, due giovani, due giovanissimi ragazzi, Ibrahim Diaz, Leao, Leao che ultimamente sta, non sta facendo rimpiangere Zlatan Ibrahimovic sotto un certo verso, perché alla fine quando la deve buttare dentro, la butta dentro. E voi immaginatevi adesso che ritornerà Ibrahimovic a pieno regime e che il Milan quando riuscirà a recuperare un po' tutti i calciatori, no? Secondo me, lo stesso anche Ben Nasser, mi viene in mente che è un altro calciatore per loro, a mio modo di vedere, importante. Il che secondo me potrebbe fare, e non poco la differenza, per le prossime partite. Sto Calabria ormai do lo metti, lo metti, sta. Questa secondo me è la foto, la fotocopia di come stanno andando bene le cose al Milan. Gli vanno bene anche perché tutti si mettono a grande disposizione dell'allenatore, anche fuori ruolo, riescono a rendere comunque in una maniera ottimale. Chi era ragazzi è stato monumentale pure stasera, ma comunque Chi era e Romagnoli sono una coppia veramente ben assortita, e anche questa è una scelta importante che la società ha fatto. Alla fine l'hanno pagato due soldi, magari non si aspettavano queste prestazioni così, ma oggi io ho visto fa un paio di chiusure veramente importantissime, no? Uno diceva, vabbè, una partita fatta bene, due partite fatte bene, ma chi era ormai? È un bel periodo grosso che sta a sfornare prestazioni di questo tipo. Insomma, arriva l'1-0 del Milan, e poi, aspettate che recupero la situazione perché io soccorto di memoria e già me l'ho scordato, arriva l'episodio del calcio di rigore, poi trasformato da Chessy, Chessy tra l'altro bravissimo a trasformarli, veramente con una freddezza allucinante, capisce i tempi del portiere, aspetta che se lancia quel millesimo di secondo gliela piazza dall'altra parte. E va bene. Sul calcio di rigore esprimo un mio modesto parere, ma io avrei tutto l'interesse a dire l'esatto opposto, perché a me stasera un pareggio o una sconfitta del Milan, in vista della partita di domani, ma anche in vista della situazione di classifica, mi sarebbe andato no bene di più. Io l'ho visto a contatto, ho letto tanti sui social, non lo so, ognuno ha il suo parere, io l'ho rivista, per me il contatto c'è e il calcio di rigore è giusto assegnarlo. L'ho visto sto contatto, sinceramente, una situazione molto particolare, c'è da dire ovviamente che il difensore prova a prendere la palla, ma il contatto, ripeto, l'ho vista più volte io il contatto, sinceramente l'ho visto, voi fatemi sapere che cosa ne pensate, qui sotto nei commenti. Migliore in campo, ve lo dico subito, scrivetemelo sempre qui sotto. Diciamo che... Devo di bere, perché ragazzi miei... Credo di soffrire... Quando mi piglio 7 caffè al giorno, ho un po' di reflusso, gasto e soffaggio, quella roba là, dopo i 30 ormai il Gaviscon è d'obbligo tutta la vita, e va bene. Il Torino in realtà poi nel secondo tempo, 200 ammuniti per Milano e va bene, il Torino in realtà nel secondo tempo ha provato a cambiare qualcosa, e qualcosina in più, forse l'ha anche fatta, no? Però il fatto è che questo Milan ha una consapevolezza dei propri mezzi forte, ed è questo che attualmente sta facendo, secondo me, la differenza. Ripeto, se andiamo a guardare la situazione di classifica, ragazzi, Milan 40 punti, ricordiamolo, con 17 partite giocate, 12 vittorie, 4 parigi e solo una sconfitta, e in tanti potevano dire, sicuramente l'hanno detto, o magari l'hanno pensato, no? La sconfitta con la Juventus, può avergli tolto quelle certezze che avevano raccimolato fino a quel momento. Non era facile giocare, diceva, vabbè, ma Torino va a guardare la posizione di classifica. Ragazzi, comunque il Torino, guardiamo le ultime quattro partite, è imbattuto, c'ha quattro pareggi e una vittoria, non era facile giocare con questo atteggiamento, con tutte le assenze che avevano, quindi queste sono partite, ma tutte le partite, a situazione di classifica, ne la devi proprio guardare. Sono stati bravi, gliene va sicuramente dato merito, se hanno quella posizione di classifica, un motivo c'è sempre, perché te può andare bene in una partita, puoi essere fortunata la seconda, puoi essere fortunata la terza, quando in 17 partite te ritrovi davanti a tutti, con tutti quei punti, devi solo che stender velo e di, per il momento siete più bravi voi, vediamo dove riuscire ad arrivare alla fine. Però, hanno ovviamente la tranquillità, di aver vinto questo scontro, e poi domani, le mettesi a sede a un tavolo, oppure a sede su una fortuna senza tavolo davanti, guardasse Roma-Inter, e vede quello che succede. io penso che a loro, forse una sconfitta dell'Inter, è quello che gli andrebbe meglio, li agganceremmo eventualmente in classifica, ma non disdegnerebbero neanche in pareggio, perché poi permetterebbe comunque alla Roma, vabbè, vediamo quel che accadrà, io ovviamente, divo Roma, mi auguro che possa accadere quello che, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i miei canali YouTube, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione, qui trovate dei contenuti consigliati, vi aspettiamo sulla piattaforma viola, trovate il link in descrizione, perché parliamo di questa partita, e di tutte le altre, dice ma ne parlava l'Atalanta, l'Atalanta che voglia, hanno fatto 200 co, appena attimo, hanno richiapato, hanno vinto, e poi, Mattia Destro, Orgel, chissà aspettava, ciao rega.